Ben ritrovati qui a Non è mai troppo digital, trasmissione di Telefriuli per il Comune di Udine riguardante la cultura digitale, le competenze come cittadini che ci vengono richieste al giorno d'oggi e l'alfabeto informatico è tramite i computer, ma non solo, i dispositivi con cui noi accediamo alla rete Internet. Abbiamo parlato dell'e-government, ovvero della posizione della pubblica amministrazione riguardo i suoi doveri per legge, di rendere trasparente la comunicazione espressa al cittadino, di dare visibilità ai propri atti amministrativi. L'altro lato della medaglia si chiama e-democracy ed è l'insieme delle pratiche di partecipazione che noi cittadini possiamo normalmente, quotidianamente praticare utilizzando le tecnologie di connettività dell'informazione e della comunicazione. Quindi si tratta in questo caso di comunicare o verso la pubblica amministrazione o comunque partecipare a iniziative di tipo civico, promosse anche da privati o da enti sul territorio, che riguardino in qualche modo il miglioramento dell'abitare fisicamente sul territorio o anche nei suoi spazi digitali come forma appunto di abitanza digitale. Vi sono alcuni argomenti di cui bisogna tenere presente nel momento in cui partecipiamo come cittadini a dei meccanismi di democracy, ovvero essere riconoscibili in qualche modo, avere un'identità digitale con cui possiamo accedere a delle piattaforme dove auspicabilmente come cittadini, con nome e cognome, ci presentiamo per contribuire in maniera collaborativa insieme agli altri al miglioramento della cosa pubblica. È certamente possibile in internet partecipare in modo anonimo, ma secondo i diversi contesti di praticabilità ci sono differente valutazioni a riguardo. Ovviamente un ragionamento sulla privacy non può mancare da queste informazioni, in quanto sto partecipando appunto con nome e cognome delle attività di comunicazione, di conversazione che riguardano la pubblica amministrazione. Conseguentemente un aspetto di responsabilità nostro come cittadini rispetto al nostro dire, al nostro partecipare ai luoghi di socialità della pubblica amministrazione. Come cittadino digitale ho sicuramente dei diritti, appunto quello di un'identità digitale, forse sarebbe il caso di pensare a qualche modalità nuova, aggiornata e moderna per stabilire una sorta di anagrafe digitale presso i comuni. Ognuno di noi dovrebbe essere autenticato nel suo comparire online, in rete, direttamente come persona senza ricorrere appunto a parti commerciali o autenticandoci con profili di altri luoghi sociali della rete. Ho un diritto alla protezione dei dati personali, ho un diritto, e che discende se vogliamo dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, a un accesso all'informazione, sempre e comunque, tanto quanto quello di il diritto di vedere riconosciuta la mia partecipazione, cioè il mio diritto a esprimere me stesso in qualunque forma. Quella che riguarda ad esempio la corrispondenza privata che sappiamo inviolabile, deve riguardare anche i comportamenti che noi teniamo online e a nessuno è permesso poter sbirciare nella nostra comunicazione privata, fosse un privato cittadino oppure un ente governativo. Fondamentalmente quindi quello che si sta cercando di comunicare a livello istituzionale, ed è finalmente una presa di posizione importante, un valore su cui vale la pena riflettere, è che Internet rappresenta un po' un diritto di cittadinanza. Potrei misurare la qualità degli stati di questo pianeta, nel senso di quanta civiltà offrono ai loro cittadini, secondo la quantità di banda, di connettività che viene messa a disposizione, per il fatto che questa equivalenza garantisce un rispetto dell'accesso all'informazione garantito diritto di ogni cittadino. Ribadendo al discorso sulla responsabilità del cittadino, sulla sua consapevolezza, fondamentalmente quello che veniamo chiamati oggi a fare, sia da iniziative spontanee che nascono in rete, sia da avere proprie campagne di comunicazione da parte della pubblica amministrazione, è partecipare a dei luoghi di socialità. Magari potrebbe essere messa pubblicata e sottoposta a giudizio della collettività, un regolamento interno di un comune italiano, oppure un'iniziativa riguardante il flusso e la gestione di cose o persone sul territorio, la viabilità, quindi un meccanismo consultivo con cui ognuno di noi può liberamente partecipare e dire la propria opinione negli ambienti web. Forse arriveremo al voto elettronico, vi sono già delle sperimentazioni in atto anche in Europa e forse su piccole aree locali, su tematiche molto circostanziate sarebbe possibile anche provare alcuni meccanismi di voto elettronico. Fondamentalmente la partecipazione dal punto di vista pubblica amministrazione vuole dire quindi creare dei contenitori di socialità, possono essere dei piccoli forum, dei blog urbani di quartiere, delle baccheche elettroniche, dei piccoli social network dedicati alla partecipazione dei cittadini su tematiche specifiche, dove però tutto avviene attraverso una collaborazione e una condivisione, quindi secondo valori che sono capaci di per sé di stringere la comunità e di far emergere un sentimento di appartenenza a una socialità e a un territorio vissuto in prima persona avendone cura e promuovendo la qualità dell'abitare. Udine nel ventunesimo secolo intende essere Smart City, una città intelligente, brillante, più efficiente, ragionando sia di tematiche riguardanti la connettività, la banda larga, il wifi cittadino, tanto quanto appunto di spazi di socialità digitali dentro cui liberamente i cittadini possono partecipare, esprimere la loro opinione, auspicabilmente contribuire a migliorare la qualità dell'abitare sul territorio.